Maledetta politica su agenzieradicale.com, con Geppi Rippa, parliamo naturalmente della nuova elezione del Presidente della Repubblica, una settimana un po' a freddo, cerchiamo di ragionare un po' su alcuni fatti di attualità politica, relativi proprio al postelezione presidenziale, che ha portato in un certo senso al famoso Gesù IDC, per intenderlo, ci siamo tutti democristiani, un coro ecumenico c'è stato a favore di Mattarella, tutti si sono un po' allineati alla nuova figura, non si sa quanto ipocritamente, forse anche dalla misura della valenza politica, in un certo senso in questi casi si indora un po' il personaggio che sale al colle, è un fatto abbastanza fisiologico, anche se questa volta sembra che forse si sia un po' esagerato rispetto alla figura di Mattarella, poi magari sarà un grandissimo Presidente, ma bisognerebbe valutarlo dopo. Il prima, la figura resta comunque una figura che forse conferma la scelta un po' più di basso profilo, almeno sulla carta, rispetto a figure un po' più ingombranti per il Renzi, per il Premier. Tu da questo punto di vista come vedi la scelta finale di Mattarella? Voglio innanzitutto dire che sarà stata pure pregna di retorica, ma a conti fatti, nella scenografia decisamente poco gradevole, poi verremo a dire qualcosa in questo senso, che si era venuto e che si viene a configurare in questo paese, alla fine Mattarella potrebbe anche essere ritenuto, e io lo ritengo con sincerità, non dico il male minore, è una situazione che può in qualche misura offrire non delle soluzioni, ma lo sviluppo di un settennato, dentro il quale però quello che si avverte sempre più mancano i contenuti riformatori reali entro cui si misura la situazione. Allora ecco, va la pena tentare, fatta questa premessa, che non è un formale riconoscimento in termini ipocriti, ma è sostanzialmente una presa d'atto di una situazione che sinceramente avverto a questi caratteri, tentare di andare a analizzare alcuni aspetti, a cui facevi riferimento anche, che in qualche misura hanno sviluppato una serie di retoriche che sono a limite anche poco esaltanti, nonostante tutto. Oltre la presa adatto che abbiamo avuto, il Movimento 5 Stelle che dall'astio nei confronti del Quirinale è arrivata ad una forma di dialettica più conveniente, le parole espresse dai soggetti politici di 5 Stelle, sui quali abbiamo nel tempo consumato una serie di riflessioni, non di polemica, ma di presa d'atto dal nostro punto di vista del loro ruolo all'interno della scenografia attuale, abbiamo visto la presa di posizione di Cell, abbiamo in qualche misura avvertito anche praticamente una scenografia ancora più particolare, la TV, sia essa Rai, Mediaset, Sky, abbiamo la reimmissione di una fauna democristiana. Si sono stati recuperati dal sarcofago parecchi personaggi. Devo dirti che questa cosa mi ha anche divertito, perché poi tutto si potrà dire tranne che un pomicino, un bianco o un qualunque altro democristiano della prima repubblica, tra virgolette defunta ma sempre viva, non avessero maggiore charme rispetto, almeno da un punto di vista di chi segue la politica con la curiosità anche critica. In questa chiave però il fatto ci dice questo, il reietto pomicino era presente agli approfondimenti dei rei tre serali che già danno però sul piano della semantica dell'immagine una precisa volontà di ricollocare. Naturalmente poi ci sono sviluppati molti altri discorsi, il richiamo al manifesto di Pintoro nel quale dopo il tracollo della prima elezione con Demita, segretario del partito, quando la DC perse due milioni di voti, il titolo era Non moriremo democristiani, con quella certezza che stava decomponendosi. Cos'è tutto questo insieme di ingredienti che stiamo avvertendo? Stiamo all'interno del perimetro culturale che ha generato la crisi e che la reitera. tutti gli attori sembrano muoversi all'interno di questa scenografia. Cosa intendo dire? Intendo dire che della crisi della centralità democristiana i segni vennero fuori in misura eclatante proprio con quel divorzio che segnarono la fine di una stagione in cui la DC nel dopoguerra, nel dopoialta aveva mantenuto una chiave di controllo. Poi c'era stata la saggetta di De Gasperi, l'apertura ai partiti laici e socialisti che in qualche misura ricostruivano un ambiente un po' meno aspetticamente legato a quello che poi era la riproposizione in Italia di quel bipolarismo che sul piano internazionale si consumava con la contrapposizione tra Est Ovest, America e Unione Sovietica. Quella centralità fu messa in dubbio perché emergeva una realtà sociale che incominciava o voleva manifestarsi in una chiave diversa, una realtà sociale nella quale l'individuo sottratto alla identificazione di partito su cui gravavano le stimmate negative del fascismo, incominciava ad avere una propria consapevolezza e quindi articolava una rappresentazione di dialettica tra i cittadini e tra cittadini e istituzioni di tipo diverso, che era il primo segno di un'autonomia in visa a chi? Alle culture egemoni, quella comunista e quella cattolico-clericale che in qualche misura avevano occupato la scena e la riverberavano in Italia, non soltanto attraverso i modelli culturali, ma attraverso i sordi e questa è la verità sostanziale, cioè erano realtà che potevano gestire il potere sia attraverso l'occupazione del potere in Italia sia attraverso anche le rimesse che venivano con le paghette dall'Unione Sovietica, quindi in qualche misura abbiamo una classe dirigente che adonta di quello che alcuni amici democristiani hanno riprodotto in questi giorni in televisione, era tutt'altro che un cattolicesimo politico con la cui forza, intensità e capacità di amalgama dei vari soggetti sociali, consentono a questo modello di ritornare in pompa magna. Questo è un modello che ha una piena legittimità, ci mancherebbe altro, è presente anche in altre realtà europee, ma quello che è in dubbio è che in Italia questo modello culturale che il prodotto, che poi ha portato al tentativo del compromesso storico, ha comportato il fatto del rapporto che già nasceva nell'immediato dopo guerra con il voto del concordato, era un modello sul quale il presupposto essenziale era il massacro, letteralmente il massacro di tutte le culture politiche che nascevano all'interno dei modelli liberali, laici, libertari. Mattarella e la sua storia politica e il suo modello di cattolicesimo, quanto è lontano, secondo me è un po', almeno rispetto a quello che ha fatto. Quanto è lontano da questa visione laica, liberale, socialista? Innanzitutto sul piano dei comportamenti individuali possiamo dire che Mattarella è una degna persona, sul piano della sua storia politica e culturale è il più lontano da questa storia, perché io per esempio di un Mattarella che si muove nel rispetto della Costituzione ci credo, il problema è che è un Mattarella che si muove sul rispetto della Costituzione più bella del mondo, già questo mi impressiona un po' di più, non perché non abbia… E' anche della legge elettorale, ha detto Bersani che è stata la legge elettorale migliore della Repubblica la sua, certo, però perché… Certo, perché sono stati capaci poi di fare il porcellum, tra l'altro qui si apre un altro varco, di cui la responsabilità non è certo di Mattarella, ma Mattarella è giudice costituzionale ed è un giudice costituzionale che probabilmente, non lo sappiamo, ha votato sulla incostituzionalità del porcellum, però il porcellum ha generato questo Parlamento con un premio di maggioranza talmente abominevole che la Corte Costituzionale dovrebbe intervenire parlando di incostituzionalità e quindi in qualche misura la stessa fonte di legittimazione potrebbe essere ridotta, si tratta naturalmente di questioni apparentemente di lana caprina, ma sicuramente aprono il varco a quelli che sono i contenuti più intensi che io penso di dover in questa chiave sulla tua sollecitazione esprimere, cioè che tutto questo che si sta generando è il prodotto della totale forma di distruzione di tutti i germi laici liberali, cattolico-liberale, cioè quelli che sono i modelli dialettici, le dinamiche che ancora assistiamo in queste ore a livello televisivo, testimoniano che cosa? Nel tutto alcune dinamiche tipicamente proprie di un modello partitocratico opposto al partitocratico, perché si potrebbe anche dire sì Renzi ha trovato questa soluzione perché il suo pragmatismo lo porta a questo, ne parlavamo un istante fa io e te a proposito dell'atteggiamento di Renzi che quando è venuto il capo del governo greco Tsipras ha esaltato e poi dopo che è arrivato il comunicato della BCE che metteva in mora il tentativo di un accordo che non pagasse i debiti, Renzi ha detto che andava bene, Renzi è in questo molto democristiano, la DC ricordiamolo sempre copriva dall'estrema sinistra all'estrema destra, come si potrebbe dire dai modelli rivoluzionari della sinistra estrema, non dico brigatistica ma quasi, alla modella estremo dei NAR in quanto tali che erano la parte di destra, era un partitone comprensivo che si muoveva in quel tempo storico-politico in un'opera di pacificazione di PAC sociale che era accompagnato da che cosa? Era accompagnato dall'assenza, per dirla brutalmente, del chi paga, per cui tutti i diritti non erano acquisiti in base alla capacità di dinamizzare la società, portarla ad essere un soggetto vitale anche sul piano economico, certo nessuno può negare che l'Italia ha delle caratteristiche molto particolari, non avrebbe mai in mente di paragonare l'Italia alla Grecia, l'Italia ha comunque un background di cultura imprenditoriale, però è indubbio che è un paese fragile perché ha come la Grecia un surplus estremo di pubblica amministrazione che era il modo con cui si realizzava questa PAC sociale e che resta ancora il fardello essenziale per cui intraprendere in Italia ad onta della buona volontà nella cultura della crescita è molto difficile, nessuno che ha capitali viene a investirli qua perché viene impantanato in tutto l'insieme delle contraddizioni che conosciamo, che sono poi anche quelle non certo nobili delle infiltrazioni di vario genere che non starò qui a ripetere, ma sono anche quelle di un modello anche di relazioni sociali che sono decisamente affidate ad un sindacato che più che svolgere la cultura della difesa dei lavoratori è la cinghia di trasmissione di certi modelli culturali di compattamento sociale, per cui ancora adesso ci riportiamo come effetto derivato la conseguenza dei disoccupati giovani perché i non garantiti, quelli sono fottuti, è bene che stiano fuori, erano negli anni 60, 70, 80, 90 fino ad oggi ed è bene che rimangano fuori, mentre invece casomai c'è un perfezionamento sulla possibilità di chi ha un co-co-co e giustamente ha un diritto di avere un lavoro a tempo indeterminato che migliora sicuramente anche la sua dimensione interiore, ma la sacca immensa di giovani che restano tagliati fuori resteranno tagliati fuori perché a nessuno verrebbe in mente, perché manca proprio la dinamica della cultura industriale che è proprio della drammaticità con tutti i limiti di un capitalismo liberale che naturalmente è tutt'altra storia da quel capitalismo turbo capitalistico, aggressivo, finanziario che in qualche modo è l'avversario con cui fa i conti un capitalismo liberale. Il riferimento a Renzi ci consente di guardare un po' a quello che è successo, il totocurinale è iniziato con la resa dei conti nel Partito Democratico generata dall'approvazione dell'Italicum al Senato, si è chiuso con l'elezione di Mattarella e l'apertura invece della resa dei conti all'interno di Forza Italia, quindi con la rottura o presunta tale di questo patto del Nazareno di cui tanto si parla ormai da un anno. Ora in questa fase appunto molto democristianamente Renzi è chiamato a gestire una situazione che secondo me molti parlano del fatto che potrebbero venire meno i voti, però bisogna forse tenere anche in conto il fatto che si è aperta la classica stagione dove c'è l'istinto di sopravvivenza dei parlamentari presenti. Però diciamo che più si avvicina verso la metà, quando si scollina quasi la metà in legislatura o comunque si va verso il pericolo delle elezioni, si sbucano appunto i cosiddetti volenterosi o responsabili e quant'altro e quindi di conseguenza è molto facile che Renzi riesca comunque a fare il giochino del tre cartaro e prendere una volta parte e una volta dall'altra e quindi un po' con queste maggioranze variabili a seconda della situazione. Tu come la vedi? Guarda questo è un aspetto strutturale di Renzi, Renzi nasce con questo meccanismo di frinta modernizzazione dal mio punto di vista, però poi in realtà sul piano semantico, sul piano del suo modo di porgere sembra effettivamente mordere i settori della corporativizzazione, deve fare i conti con gli equilibri complessivi di un paese che noi abbiamo definito a più riprese il prodotto come conseguenze di certi modelli culturali, di cui la società delle conseguenze. È evidente che tutti questi aspetti che tu segnalavi sono assolutamente presenti, ma il problema essenziale è che c'è chi poi si illudi a questo punto che il fallimento ventennale dell'esperimento del bipolarismo centrodestra e centrosinistra, perché di questo si tratta, poi hanno fatto catastrofi a tutti i livelli, fa quasi sorgere la nostalgia di un modello democristiano incomprensivo, avvolgente, capace di tenere dentro tutti. Peccato che però resta presente un dato di fatto, che mentre quel modello poteva vivere di rendite parassitare che derivavano dal piano Marshall e dalla vicenda del posti alta, dagli equilibri internazionali, questo mi sembra poco idoneo a questa situazione, tant'è che qualcuno commenta e dice ma poi l'Italia fa le beghe interne, l'Italia non si occupa di politica internazionale, perché non rientra nelle sue dinamiche della classe dirigente, eppure siamo insediati in quel Mediterraneo che è culla di tensioni drammatiche. Abbiamo di fronte a noi tutto il pululare drammatico dell'ISIS, abbiamo le vicende che riguardano l'est europeo, manca proprio l'impianto di interpretazione, perché? Perché di fatto poi le culture egemoni hanno distrutto capillarmente questo sito, qualcuno dovrà pure interrogarsi, perché non emerge una figura che abbia un profilo liberale e riconosciuto come tale, perché in questo paese, casomai, tra virgolette, al di là degli errori drammatici commessi, un radicale non è il soggetto che ha immesso nella società gli unici ingredienti della propria crescita di civiltà, se non ci fossero stati radicali, i diritti civili, l'aborto, il divorzio, avremmo solo il terrorismo e le dialettiche drammatiche di una cialtronesca classe dirigente asservita sul piano internazionale e assassina all'interno a tutti i livelli con un cinismo micidiale e nessuno si interroga del perché, casomai, ci troviamo di fronte a trasmissioni dove c'è una mappa di soggetti, tutti derivanti da quella cultura, o sono democristiani o comunisti, oppure c'è qualche socialista o laico che da tempo ha perso questi connotati, semmai li ha avuti, che staria a fare il cavalier servente. Questo deve far capire che noi abbiamo un ritardo cospicuo, Mattarella è perfettamente, e questo è già un elemento di soddisfazione, una persona tra virgolette per bene, semmai questo termina la sua attualità, ma non sembra corrispondere a una capacità interpretativa delle esigenze, noi abbiamo un problema di governabilità, abbiamo un problema di rappresentanza, diciamo le cose come stanno, oramai la rappresentanza è ridotta l'osso, perché al voto vanno meno della metà degli italiani e dentro a questo ci sono gli antagonisti costruiti dal regime che sono appunto i 5 Stelle, poi abbiamo i leghisti, abbiamo tutto e il contrario di tutto, ma sono sempre meno del 50%, cioè la base sociale oramai ha un profondo elemento di distacco. Allora cosa vuol dire questo? Vuol dire che gli snodi culturali che sono la causa del blocco anche della nostra vicenda complessiva sono stati non risolti, non vengono affrontati, tant'è che poi bisogna intervenire compensando quella corporazione, l'altra corporazione, quel sindacato, quella corporazione di magistrati, quella corporazione di giornalisti, cioè si tenta ancora di misurare il perimetro della dialettica tra gli attori sociali, politici e culturali dentro a quel gioco di distribuzione che è figlio di una storia che è datata dentro un meccanismo che non ha più ragioni di essere, tant'è che questa settimana abbiamo assistito ad una reimmissione anche di categorie concettuali, per quanto mi riguarda anche i più divertenti, perché un vecchio nemo cristiano era sempre più vivace, più acuto, meno stronzo politicamente, quel termine può sembrare duro, di quanto lo siano questi ipocriti che sono il figlio di un moralismo d'accatto, tutti figli dello Stato assistenziale, tutti figli di subculture, nel quale poi viene immesso alla carica della indignazione, noi abbiamo un paese nel quale non ti puoi manco indignare perché gli indignati di professione hanno distrutto il valore fondante di che vuol dire indignazione, proprio come voglia di rompere rispetto a delle ingiustizie e tutto il lavoro che è stato fatto, usando sempre l'espressione del Satiagra, Satiagra come disperato, non violenta ricerca di verità, si annulla perché? Perché il circuito è bloccato da un sistema informativo che in qualche misura opera in questa chiave di copertura totale? Secondo me la situazione è molto più drammatica di quanto si può immaginare perché non abbiamo certezza di cosa accadrà negli sviluppi delle situazioni anche conflittuali che il mondo ci produce, la vicenda ucraina, la vicenda del fondamentalismo islamico, le dialettiche interne, certo non siamo un paese all'anno zero, esistono anche fronti significativi, filoni culturali che sono mantenuti in vita ma obiettivamente marginalizzati ed esiste quindi un tentativo di affidare la scelta di governo ad un politico da bordo, a un qualunquismo proprio che in qualche modo però non mi sembra sia supportato dai mezzi sufficienti economici per tenere questa PAC sociale nonostante tutto, questo non vuol dire che non ci siano linee di convergenza, se nasce il Presidente della Repubblica tutti cercano di giocarsi la propria partita, c'è anche l'ex radicale che dice che poi non è affatto una persona triste perché ha qualche elemento interessante perché lui l'ha conosciuto, in effetti non a caso questo sex radicale è una sorta di democristiano in quella linea culturale, ci sono tutti, la stessa 5 Stelle che ha da due anni quello che gira a vuoto in sede parlamentare e che sta mandando al macero il consenso, nato forse da un ribellismo ma anche sincero da parte della gente, emergono tutto il quadro di debolezze ma quello che mancano sono gli anticorpi perché l'azione sistematica di distruzione di tutti i pozzi non soltanto di cultura liberale ma di governo che non sia il pastrocchio generalizzato mantenuto in vita dal supporto esterno sono stati avvelenati. In questa chiave, con questa scenografia, mi permetto di dire che alla fine per quanto connotato nella cultura della Costituzione più bella del mondo, per quanto figlio di una filigrana che io nonostante tutto credo che possiamo, non dico fidarci in toto, ma possiamo essere rassicurati da un Presidente della Repubblica che in 40 anni di storia politica sua ha testimoniato un senso della misura, già questo mi sembra un elemento, questo non significa che mi aspetto chissà quali clamorosi cose, ma mi aspetto almeno un argine rispetto alle tentazioni di pigliare per i fondelli la gente facendo vedere tutto il contrario di tutto e quindi impedendo la consapevolezza individuale come strumento dentro al quale si forma il processo di riforma. Cambiano le persone, cambiano le istituzioni, cambia il rapporto tra cittadini e istituzioni e si nutre dentro la speranza del cambiamento la coscienza è la responsabilità individuale. Va bene, con questo auspicio o comunque questa speranza almeno dell'argine di Mattarella chiudiamo questo appuntamento con Maledetta Politica alla prossima settimana.